Da Gaza alla NASA, l'ingegnere spaziale palestinese Loai El Basouni ha fatto la storia come parte del team che è riuscito a far volare un elicottero sperimentale dalla superficie di Marte. La sfida maggiore era progettare un motore superleggero ma con una nuopotenza adeguata per l'ascensione, un successo che ha riempito di gioia l'intero team quando le prime immagini hanno mostrato la missione riuscita. Il momento di felicità maggiore è stato il primo volo, ero così felice e orgoglioso di essere in una squadra del genere. La mia speranza da quando ho lasciato Gaza, fin da bambino, era sempre quella di avviare un'azienda che potesse cambiare il mondo. Quella è la mia missione e questo è stato un passo nella mia carriera. Nato a Gaza, ha lasciato la città nel 1998 per studiare negli Stati Uniti e non è più tornato da 21 anni. Il suo percorso per riuscire non è stato facile. Negli Stati Uniti ho affrontato grandi difficoltà, la situazione è peggiorata a Gaza e ho dovuto lavorare molto duramente, fino a 100 ore settimanali, consegnando pizza o nei ristoranti per pagare i miei master, ottenere la laurea triennale e magistrale in ingegneria elettrica. Da lì ho lavorato tantissimo fino a costruire davvero la mia carriera nello studio dei veicoli elettrici e poi degli aeroplani elettrici che mi hanno consentito di progettare l'elicottero per Marte. Raggiungere adesso il territorio palestinese di Gaza è sostanzialmente impossibile, perché non si può mai prevedere quando il confine sarà aperto. Adesso El Basuoni teme di rimanere intrappolato se andasse a trovare la sua famiglia, ma continua a sognare e progettare. Per lui è nella gestione delle difficoltà che si vive veramente.